Musica 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 Allora, il dubbio è che io non so bene cosa... Vabbè, ma non so neanche io... Possiamo partire oppure... Si Eh, chiaro... Se hai messo insieme una... Una banda di... Allora, c'è il bastone, eh? Ciao! Eh, ciao! Quindi per fare cose serie passano avanti e indietro... Gli X-Runner sono, come dire, dei bolt-and-fogli... Dei bolt-and-fogli... Però adesso prendo un bastone... Va bene, allora intanto cosa sono gli X-Runners? Gli X-Runners sono un gruppo di fodisti di varie società Che corrono insieme per Emergency Giusto! È un sogno che è iniziato nel 2010 Abbiamo formato... Ho chiesto a Giovanni di contattare Gino Strada Lui lo ha contattato, ci siamo messi d'accordo E abbiamo cominciato a correre per Emergency Primo appuntamento siamo andati a Beirut A Beirut, cioè il posto più estremo dove potevamo andare Giusto! E poi abbiamo corso a Gerusalemme Abbiamo corso dal cross al trail alle maratone Abbiamo corso in moltissime maratone in Italia Andate a lavorare! Perché è importante correre per Emergency Perché non è importante perché corri ma con chi corri Emergency in tutto il mondo Fa grandi cose, ospedale E tra l'altro noi corriamo anche per un progetto particolare Che poi spiegherà il Vario Troppo, il figlio, altre persone Quindi mi raccomando Visto che si corre, corriamo per una causa che è importante Anche quest'anno gli X-Runner correranno per Emergency I fondi raccolti attraverso questa iniziativa Andranno a sostenere il centro pediatrico di Bangui È un ospedale per i bambini della Repubblica Centroafricana Che Emergency ha costruito e gestisce Le mamme che raggiungono la nostra clinica Dove ricevono cure non solo dai medici di Emergency Ma dai medici, degli infermieri, il personale locale Centroafricano che presso l'ospedale riceve formazione Che impara, migliora il proprio livello E comincia a curare la gente del proprio paese Questo è l'obiettivo Lasciare a chi ne ha bisogno gli strumenti per andare avanti Questo è l'obiettivo di Emergency Scomparire sarebbe il nostro sogno Inizia il fegato C'è sti fele Correre fa bene Va bene ma Io l'ho appicchiato E' stata una cacca Adesso l'ho dovuto portare via Perché è una roba inguardabile Quindi è bello però X-Run è una rivista che parla di corsa È scritta non da giornalisti professionisti Ma da coloro che corrono Quindi è una rivista che non si occupa tanto di materiali Tempi, corse in senso tecnico Ma racconta proprio le storie di coloro che corrono È una rivista bimestrale Si riceve solo l'abbonamento E da due anni a questa parte La rivista dà una parte del ricavato Aimea di essere Ecco vi domanderete come mai Non ci sono Aldo Giacomo Aldo ha avuto l'attacco di squaraosa dietro questo appino E Giacomino è sul divano Però anche lui indossa questa maglietta In colore azzurro Per cui anche loro pur non correndo Vanno in giro a promuovere questa grande iniziativa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti